Quindi lei non toglie pelle ma agisce con questa tecnica endoscopica. Io sono molto curiosa di sapere in che cosa consiste gli strumenti che lei utilizza e via di conseguenza. Tanto per fare un paragone, per farci capire meglio da chi ci sta guardando, direi che possiamo fare un parallelo tra la chirurgia endoscopica, per esempio dell'addome, che la gente già conosce perché è già più anni che esiste in chirurgia generale, per esempio quando si tolgono i calcoli alla colecista. Anche in ortopedia si usa l'endoscopia, il menisco viene operato spesso in questa tecnica. Diciamo che ci sono molti campi chirurgici che si avvalgono dell'endoscopia e la chirurgia estetica, plastica, sta acquisendo questa tecnica e sta facendo passi da giganti in questa direzione. Come dicevo, attraverso un... qui possiamo al limite vedere quello che è la strumentazione di base che serve per questo tipo di intervento, vedete c'è una centrale, una centrale, un computer, dove l'immagine che passa attraverso questa piccola telecamera, che ha un diametro di 4 mm, questa telecamera viene introdotta attraverso delle piccole incisioni. Quindi questa va all'interno del tessuto del viso. Esattamente, va all'interno del tessuto e trasmette un'immagine al computer che la riporta su uno schermo. Il chirurgo opererà guardando lo schermo, quindi non più guardando direttamente il paziente, ma lavorando sullo schermo. Naturalmente questo è collegato a una telecamera, che qui vediamo, che viene appunto collegata all'ottica e che permette di trasmettere l'immagine su questo schermo. I vantaggi in questo caso sono duplici. Il primo vantaggio è che il chirurgo può lavorare su delle strutture molto profonde, da delle incisioni molto piccole. Piccole e nascoste. E nascoste. Il secondo grande vantaggio è che le strutture anatomiche sono magnificate, ovvero quello che in natura è di pochi millimetri o frazioni di millimetro, noi lo vediamo sullo schermo molto più grande. Quindi acquisto una maggior sicurezza e l'intervento è una maggior precisione nell'intervento stesso. Più più precisione, quindi anche meno rischi di ledere altre strutture vitali. Assolutamente. E questo tipo di intervento lei come lo progetta? Dunque, questo intervento viene progettato ovviamente sulla paziente, abbiamo detto prima il discorso del far vedere, di vedere prima una foto della persona più giovane, quindi per me è molto importante poter fare questo confronto. E poi si fa una serie di disegni, di pianificazioni sul viso che servono poi al chirurgo durante l'intervento, visto che la paziente sta dormendo, per poter procedere nell'esecuzione dell'intervento stesso. Ecco, noi abbiamo qui in studio una modella che è a disposizione del dottor Gennai per simulare una progettazione di intervento.